Ramen 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 Perché devi fare la scena che lo annusi, lo tasti, lo palpeggi, stai facendo un atto sessuale con il gambero? Perché? Manca poco che se lo limona il gambero Limona non è senso con la lingua, eh, limona non è senso che mette il limone e se lo mangia Ramen Spogliare un gambero è come spogliare una ragazza ed è per lui un momento eccitante Scusciando i gamberi si eccita, cioè la cosa è messa male, raga Ti rapisce e ti porta direttamente a casa Cioè ti rapisce a casa tua in pratica, è il cattivo dei cattivoni più cattivo di tutti Perché sono fortissimi quando hanno l'ombrello in mano L'ombrello ti dà la potenza divina, ti dà Però perde sempre e non trova le leggendarie Tutto normale, non regolare Ma che caglio è? Ramen finale Ha finito la preghiera Ramen perché il gambero è qualcosa di sublime Potente e ha bisogno del massimo rispetto della razza umana Crivio Via! Ramen finale Cagate e pisciate Ramen Perché il gambero è qualcosa di sublime Potente e ha bisogno del massimo rispetto della razza umana Crivio Via! Cagate e pisciate Ramen Molto interessante davvero No ma con questo video abbiamo toccato il fondo Cioè veramente siamo scesi più in basso possibile Poi abbiamo scavato e ci abbiamo anche cagato dentro No non ci è piaciuto Però non ti abbattere Sei bravissima con l'smr Però non lo fare più Fidati Non lo fare più Non si potrebbe attivare la campanellina solo per i video decenti e non quelli a smr Raga questo non è una smr Non si può definire una smr Stai andando bene con altri tipi di video Non fare cose che non ti competono no? La smr raga è un'arte L'arte del farti addormentare mentre stai guardando un video Ma che caglio è? Ramen finale Ha finito la preghiera Ramen Perché il gambero è qualcosa di sublime Potente e ha bisogno del massimo rispetto della razza umana Crivio Via! Ramen finale Cagate e pisciate Ramen Perché il gambero è qualcosa di sublime Potente e ha bisogno del massimo rispetto della razza umana Crivio Cagate e pisciate Ramen 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 Nel Tornata Nel Tornata Tornata